Nuova unboxing! Ciao a tutti sono sempre io, Emre Pitch I Love e bentornati in questo nuovo video! Siamo in un nuovo unboxing e non voglio assolutamente perdere tempo, anche se questi unboxing durano sempre pochissimo, ma meglio così, altrimenti sono troppo noiose. Abbiamo oggi un bellissimo pacco di Amazon riciclato, anche se non è di Amazon. È un pony, super raro. Ok, all'interno c'era st'affare, sto coso di poristirolo, completamente incartato di scotch. Aspettate. Salve! Oddio, oddio, ragazzi. Oh mio Dio! Liberiamo la poverina. Carina la bustina, me la terrò. Oddio, vi presento Diamond Rose. No vabbè, è stupenda, è davvero stupenda. Allora, Diamond Rose fa parte, non mi ricordo di che anno, forse 2011 o 2012, e fa parte sempre dei Marital Pony single, quelli appunto dove venivano venduti separatamente con un animale, un animal friend. Lei fa parte però della serie traveling che si poteva trovare lei e Cherry Pie, Cherry Pie ce l'ho già, e lei è rarissima da trovare e super costosa. Avevo avuto in realtà già una possibilità di prenderla tempo fa, purtroppo, cioè addirittura l'avevo trovata anche a un prezzo molto più basso. Il problema è che il venditore ha fatto una cavolata, però adesso non vi sto a spiegare, insomma, inconvenienti a volte. Ma sono felice di aver avuto una seconda possibilità e di essere riuscita a ritrovare, insomma, a prendere questa pony che è veramente stratosferica. E anzi, sono qui per annunciare che lei è la mia primissima pony bianca. Allora, sono state vendute tre pony background bianche, sono appunto Diamond Rose, Blossom Forte, che anche lei vorrei tantissimo prenderla, e un altro pony che purtroppo al momento non ricordo il nome e ve lo scriverò, ve lo scriverò qui sotto, perché veramente non ricordo il nome, per me è difficile ricordarlo. Ad ogni modo, questa è la mia primissima pony bianca. Allora, appunto, il suo manto è bianco e purtroppo ha anche qualche imperfezione qui. È un po' sporchina, ma purtroppo dalle foto non si può vedere così tanto. Però è abbastanza pulita, non è tanto sporca. Ecco, anche qui, ma credo si possa sistemare. I suoi capelli sono bellissimi. Ha una ciocca rosa chiaro, fucsia chiaro, non saprei. Poi appunto fucsia più scuro e poi un'altra molto molto più chiara, quindi è sui toni del rosa e del fucsia. I suoi occhi sono blu, sono veramente bellissimi e hanno la stessa forma di quelli di Pinkie Pie. Purtroppo sono un po' storti. Qui è stato stampato male e non si vede benissimo. Come potete notare da qui, purtroppo gli occhi sono stati stampati un po' fuori, invece qua è abbastanza perfetto. Il suo chiodi mark è una gemma, appunto sempre con i toni del fucsia e del rosa. E la sua coda ha soltanto il fucsia più scuro e il rosa chiaro. È veramente in buonissime condizioni e la stra adoro. È veramente bellissima. E sono felice di essere riuscita a prenderla perché appunto è molto complicato da prendere e se si trova costa tantissimo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e nulla. Oh ma ragazzi che cosa mi stavo dimenticando? Cioè io stavo finendo questo video senza prima mostrarvi altro. Allora in realtà prima di Diamond Rose ho fatto un altro ordine e infatti ve lo mostro adesso. Mi è arrivata questa Pinkie Pie. Questa è una Pinkie Pie New Inbox, nuova in scatola, sempre della serie Travelling che appunto ci sta Cherry Pie e Diamond Rose. Ovviamente ci stavano anche le Main Six. Questo è come si presentavano i pony di una volta e avevo fatto anche l'unboxing di Twinkle Shine dentro una confezione così. Guardiamo velocemente, vabbè, il logo My Little Pony. Comunque posso dire che la confezione è veramente carina, tutta così chiusa. Questa c'è una foto di Pinkie Pie dentro una valigia. Nome Pinkie Pie e qui addirittura ci sono delle valigie disegnate. All'interno abbiamo la nostra Pinkie Pie, una valigia di quelle riciclate ormai che tutti conosciamo e un riccio perché insieme si trovava un riccio. Poi lì dietro abbiamo degli sticker e dietro ancora abbiamo dei ticket per il viaggio. Girando tutti quanti avevano un loro artwork e poi scritto una piccola descrizione del pony. In questo caso c'è scritto Keeps Air Friends Logging, ovvero fa sempre ridere i suoi amici, come c'è scritto qui. Quindi era per farlo vedere velocemente perché fa parte degli acquisti che ho fatto. Sono felicissima di averla, ovviamente rimarrà rinchiosa qui. Ah, comunque come c'è scritto qua sotto, è del 2011. Quindi non sono sicura, non so se Diamond Rose è del 2011 perché non so, io credo siano uscite prima le Main Six e poi i pony background, o meglio credo. C'è un'altra cosa che in realtà devo mostrarvi velocemente sempre. Sono andata al Toy Center perché una persona mi aveva detto che aveva trovato dei vecchi marital pony, quindi ci sono provato ad andare e purtroppo ne avevo trovato tantissimo, ma ho preso questo qui. Eccolo qua. E questa è un Equestria Girls, ovviamente non quelle che conosciamo, le primissime che io sinceramente preferisco. Questa però è una versione più recente, del 2017, infatti come vedete c'è una Pinkie Pie del film. Quindi questo è Pinkie Pie Through the Mirror, quindi attraverso lo specchio. Che cos'è? Semplicemente c'è la versione pony del personaggio e poi la sua versione umanizzata Equestria Girls. Infatti come vedete qua in mezzo c'è lo specchio, lo specchio per andare nei due diversi mondi. Qua appunto c'è scritto My Little Pony Equestria Girls. Purtroppo si è staccata, come vedete qui. C'è un bellissimo disegno di Pinkie Pie, versione pony e versione Equestria Girls. Qua c'è addirittura, si pubblicizzano e c'è il canale YouTube di Hasbro. Qua abbiamo Pinkie Pie versione pony perlata addirittura, carina perlata. E abbiamo Pinkie Pie versione Equestria Girls con tanto di Pinkie Pie sulla maglietta. Ve la mostro anche così. Girando, eccolo qui. Appunto c'è stato un disegno di Pinkie Pie che attraversa appunto il portale. Vabbè insomma mostra sia la Pinkie Pie del mondo pony sia la Pinkie Pie del mondo umano. Poi poi c'è scritto ABFF on hater side of the mirror. Quindi immagino sia una BFF dall'altra parte dello specchio. E quindi niente, tutta decorata a tema Pinkie Pie. E niente, ho preso anche questa. Eppure questa mi sa che la terrò dentro la scatola, perché sinceramente non ci tengo a tirar fuori. Meglio di no, rimane dentro la scatola. Quindi ora possiamo concludere veramente questo video. Quindi se il video vi è piaciuto come al solito mettete like, iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti, commentate, seguitemi sui vari social che vi metto in descrizione. E niente ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Bye! Ciao!